bella a tutti forniters eccoci qui su leon tube per andare a vedere le missioni omni spada allora innanzitutto per attivarle vedete dobbiamo vedete scritto qua sto qua in alto dobbiamo riscattare l'omni spada dal pass battaglia e iniziare a raccogliere nuovi stili quindi andiamo nel pass battaglia e riscattiamo l'omni spada ok in questo momento abbiamo sbloccato gli incarichi omni spada e i 14 omni ship è una risorsa per poi sbloccare gli stili e andiamo a vedere omni spada vedete non è più bloccato sono invece bloccate le ricompense post riscatta ancora 98 ricompense ok ora abbiamo tutti gli stili dell'elano e li vedete questi sono ancora bloccati perché bisogna fare diverse missioni queste si possono già riscattare tutto ovviamente ma dobbiamo trovare dobbiamo trovare gli omni ship dopo di che avremo i colori i suoni e le guardie quindi tanti stili per l'omni spada ma andiamo a vedere un attimo ora nelle missioni eccole qua le abbiamo sbloccate e dobbiamo raccogliere le omni ship a boschetto bisunto a monumento magnificente a deposito truciolandia sono segnalati qui ovviamente quando li vedremo comparire nella minimappa dovremmo vedere comparire il simbolo che ci aiuterà a trovarne la posizione più precisa dopo di che aver trovato queste ne verranno aggiornate come vedete altri incarichi aggiornati e con queste andiamo a sbloccare i diversi stili che vogliamo quindi con questo video è tutto ti vediamo presto con altri video ciao a tutti